Dopo essere stato costretto a uscire al trentesimo del primo tempo della sfida tra Portogallo e Serbia, Cristiano Ronaldo è stato sottoposto in Portogallo ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di apparente modesta entità. Ai flessori della coscia destra recita così il comunicato diramato dalla Juventus sulle condizioni dell'attaccante portoghese e reduce dallo stop in occasione della gara di qualificazione i prossimi campionati europei. Le condizioni saranno monitorate, CR7 si sottoporrà a nuovi accertamenti per definire la ripresa dell'attività agonistica.